Giulia Delellis si racconta ai microfoni del podcast One More Time. L'influencer ha parlato della rottura con Andrea Damante, suo fidanzato storico, conosciuto a Uomini e Donne nel 2006-D. In particolare, la Delellis ha ripercorso i dolorosi momenti della fine della loro storia, dopo due anni e mezzo ho scoperto, accendendo il suo computer, che lui mi tradiva, ha raccontato. Quando è tornato dall'America, ha trovato la casa letteralmente disintegrata. Ero molto arrabbiata. Gli ho tagliato i vestiti, spaccato la play e gli avevo rotto tutta la roba di lavoro. Una cosa che oggi non rifarei mai più nella mia vita, però ero impazzita, non me l'aspettavo. Comincia a questo punto quella che Giulia Delellis definisce la maledizione degli otto mesi. Una fase della sua vita molto dolorosa, è sempre andata così, ogni volta che ci siamo ritrovati. La maledizione degli otto mesi Ogni otto mesi ovunque io fossi, lo ritrovavo. Potevo stare in autostrada e ce l'avevo dietro, come al semaforo o in un locale. È così che ogni volta tornavamo insieme, capito? Ci incontriamo per caso, discutiamo ed era più forte di noi. Questa cosa è andata avanti per veramente tanto tempo, ogni otto mesi. Ero molto innamorata, è che avevo perso la stima nei suoi riguardi. Non lo stimavo più come uomo. E ha aggiunto, oggi, per la prima volta, siamo consapevoli entrambi della meravigliosa cosa che ci ha unito, che ci unisce perché è innegabile. È stato tutto meraviglioso così come è stato. A un certo punto ci siamo arresi al destino, arresi a noi stessi, arresi agli sbagli, arresi a tutto. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, siamo veramente in pace. Adesso l'influencer è felicemente fidanzata con il trapper Tony F. Di Niccolò mi piace che è fatto al contrario. Ha dichiarato. Poi è talmente tante cose che uno non si aspetta e mi piace il fatto che le so solo io. Per me è preziosissimo che si faccia scoprire veramente da poche persone. Non avevo mai incontrato una persona che si coprisse così tanto e si facesse scoprire allo stesso tempo da pochi. Quindi è bella questa cosa di lui. E voi cosa ne pensate? Il video finisce qui ma se sei interessato alle news puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video.